Voglio chiedere a tutti voi di aiutarli ad accogliere con caroso applauso il dottore, il fondatore della compagnia Dixie, dottor Li. Allora oggi mi hanno affidato questo coppio di pazzo di cerimonia, mi hanno chiamato ieri l'ultimo minuto, sono veramente, veramente emozionato, vi teremo plegati, quindi vi chiedo di scusarmi se vi troverete un po' imbarazzati. Ho cominciato col discorso della città interna, però oggi siamo qui per conoscere i tigri della Malesia, ossia, voi sapete tutti che Dixie è una compagnia malese. Io ho l'onore di presentarvi il top leader in Europa, la persona che sta a prendere tutti i tigri in Europa e i mercati, Mr. Lando Cocco. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Soha non è riuscire a mai sentito così stancho a prima presentazione, non è riuscire a mai sentito così stancho a prima presentazione. Creare l'elette è una cosa molto semplice, l'apertura di un ufficio invece è una cosa molto, molto difficile. Nel ultimo giorni abbiamo lavorato tantissimo per avere l'ufficio pronto per questa giornata. Sono molto felice per poter annunciare che dopo l'evento siamo pronti per servire tutti. Siamo in via Tigre, 56-58. Gli orari dell'ufficio saranno da lunedì, dalle ore 9 fino alle ore 18. E november 1, il vero è che l'induloghassos salita il 6. Dal primo di novembre sarei già pronti in grado per gestire le spedizioni. Abbiamo tantissimo da fare. Per questo motivo vorrei chiedere la pazienza di tutti, perché sicuramente nei primi giorni avremo magari delle difficoltà. Io amo questo business. Ma amo soprattutto due cose. E l'unico stiamo a frequentare e partecipare alle presentazioni come questa. Szerencire Európa va, io néhány orzai va. Fortunatamente in tanti paesi dell'Europa. Io néhány orzai va. e il'azizata che questa è la metà per la finanziare e non sa prenderebbe corsi. Quindi ci stanno ancora tantissimo, ma a poaksi aspettate il proprio noi per cercare la mercato. La seconda cosa, che mi piace tantissimo questo business, è andare a festeggiare l'anniversario. E' anche a festeggiare l'anniversario in Europa. E' anche in diversi punti del mondo. Ora ci stiamo preparando per andare all'anniversario più bello, e' anche in diversi punti del mondo della DXN. Nel mese grossi contesteggerà l'anniversario, e' anche in diversi punti del mondo. E' anche in diversi punti del mondo. Questa ceremonia si svolgerà in Malézia. Con l'apertura del mercato degli altri, e' anche in diversi punti del mondo. E' anche in Europa è una cosa più grande. E' anche in Europa ci stiamo preparando sul mercato più forte della multilevella. Questo ci potrà sicuramente tanti cambiamenti positivi. ci concentreremo tantissimo sulle esigenze particolari del rivale del mercato italiano. ci saranno nuovi prodotti ci saranno due promozioni, qualche soltanto per il mercato italiano. la prima promozione la voglio annunciare con tanta gioia a sera la mia città preferita dubai e dubai grazie al nostro presidente, insieme all'apertura del mercato italiano possiamo pronunciare questa promozione nuova. spero tantissimo che tanti di voi in questa sala partire noi insieme noi a gennaio per dubai. questo è un buon che ci sono già abbiamo preparato per il voglio qui il video, il video, il video, il video, il video, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.